Siamo con Marcello De Paola, titolare dell'omonima azienda dalla Regione Calabria, che ha un'innovazione dal punto di vista dei materiali da presentare. Sì, noi produciamo manifatti architettonici, è un formulato che abbiamo trovato cinque anni fa, ha delle caratteristiche particolari, è adatto per le condizioni estreme sia gelive che saline, quindi è molto utile, si può lavorare su diverse forme e ha delle ottime caratteristiche tecniche. Come siete arrivati a partecipare a questa riedizione del SAIE? La Regione Calabria ci ha gentilmente invitato a questa bella manifestazione fioristica, noi siamo stati contenti e abbiamo apprezzato notevolmente lo sforzo che la Regione Calabria ha fatto e speriamo che riusciamo a raccogliere i frutti di questa manifestazione fioristica. Grazie